ciao a tutti mi trovo qua in bagno per rispondere ad una vostra domanda è una domanda un po' tecnica no perché mi avete chiesto come ho fissato il laminato alle pareti avevo già fatto un video più di uno dove mostro come lo fisso alle pareti no però adesso vi mostro quante viti no ho messo per laminato praticamente con questo è il laminato no e potete vedere no ve lo faccio vedere qualche ho messo si vedono appena appena una vite no a 15 cm sono sbaglio no avevo calcolato quindi l'ho messa ho messo una vite qua su una tavola no e poi l'ho messa andiamo 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 avanti andiamo avanti in fondo alla testa mità della tavola quindi no se potete vedere l'ho messa una e una due due viti all'estremità di una tavola e poi dopo no ho saltato una linea una striscia qua perché ho fatto una striscia si è una striscia no cosa vuol dire perché me l'avete chiesto praticamente questa striscia qua di laminato messo una vite qua vedete qua l'ho messa più vicina invece poi giù in fondo dove finisce il il laminato ne ho messa un'altra no poi qua dove inizia di noi l'altra tavola ne ho messa un'altra e poi giù in fondo vedete questa l'ho messa a a 15 invece centimetri e qua l'ho messa sempre 15 centimetri nella vite in fondo a l'estremità della tavola quindi due viti no due viti per tavola no per una striscia ho fissato una striscia poi l'altra striscia sopra non l'ho fissata no e neanche l'altra striscia sotto non l'ho fissata poi ho fissato quella quella dopo no ecco vedete qua c'è una vite ve lo faccio vedere qua sopra c'è la vite della tavola questa tavola qua l'ho saltata e quella dopo invece l'ho messa e tiene tiene bene ecco saltarne saltarne due non va bene perché si sente si sente che rimbalza no però saltarne una sola distriscia va bene se volete le potete fare anche ogni striscia praticamente potete fissarle tutte e tutte le tavole ma da quello che vedo io sarebbe più che altro uno uno spreco no di di tasselli perché così va effettivamente bene no poi mi avete chiesto se ho messo il laminato a filo no e quindi se ho lasciato del bordino con si lascia di solito nel pavimento io quando l'ho lasciato a filo vedete l'ho fatto giù e giù e giù e giù no e anche qua ve lo faccio vedere anche da questa parte qua vedete qua è venuto meglio perché avevo usato una tecnica diversa con l'esperienza ecco perché era l'ultimo pezzo infatti è venuto più attaccato e per il momento adesso non si non si è spostato sono passati 44 anni forse anche cinque e quindi è ancora in perfette condizioni ecco ve lo faccio vedere da lontano no sia questo pezzo qua che anche questo vedete e poi giù e giù e giù anche l'altra l'altra parte anche qua vedete anche questo era filo lo si vede bene qua c'è la vite e poi questo era filo che va su e su anche qua a filo vedete anche qua ho messo le le viti che si vedono appena appena quelle zincate ecco questa è la è la parete che vi ho fatto vedere all'inizio ok spero di aver risposto alle vostre domande che praticamente ho messo due viti tasselli no per tavola e una striscia si è una striscia no e poi naturalmente dietro potete vedere dai video è tutto isolato dal sughero compresso da 4 mm questa parete qua mentre questa parete qua sono due centimetri di di sughero più un pannello usb e poi sopra il laminato mentre queste qua sempre da 4 mm più sopra il laminato ecco io vi saluto spero che questo video vi abbia dato delle informazioni utili e vi sia stato di aiuto ciao alla prossima ciao